ma mai e lei da sopra permesso 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 vai via attenzione sono da sera più che qui grazie allora vincitrice come ti senti mi sento veramente soddisfatta appagata ed è inaspettata questa cosa non pensavamo di no sapevamo di essere tra le coppie più ah nei primi tre si ma vincitori e di chi è merito ragazzi ovviamente mio dei vostri fan esatto che è tuo ma si scherza ma si scherza è sempre merito tu grazie permesso permesso ecco 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 è anche merito super animato soprattutto certo è troppo facile stare lì è facile ci sei combattuto c'è qualcuno mi telecola che ha quanto prima coppia l'entrata chiamarli che diventa la coppia dell'anno l'anno dopo bubi da 2002 con loro Io sempre sì, però proprio tra l'intero quest'era Ci guadagni, eh, ci guadagni La signora Barbieri Salutiamo Vuk Ciao ragazzi, mi piace Vuk ringraziamo Andatemi la cartolina Ringraziamo la Big Family e tutte le persone che ci hanno dato Ringraziamo Visto che ci ha dato questa opportunità Di andarci via per una settimana E vieni così, la cialdea Esatto, e vieni qua, e vieni qua E sì, anche se non si vuole far riprendere Ringraziamo la cialdea Che ormai ci segue dall'inizio del nastro Non mi perseguito, è vero No, non mi perseguito, è vero E ci sarai, giusto Non lo so, vedremo E allora io adesso, distratto Io voglio lasciar via quando saremo in fungo nel villaggio, eh Il posto di vento Eeeh, adesso esageriamo Viaggio, vi voglio bene E' lì Allora camera 3 No, no, grazie Però se parla, comunica Io vado a mettere le video Ma chi è quell'olio? Esatto, esatto Allora, io vi dico Innanzitutto bravissimi per questa vittoria Grazie Però c'è da pagare pegno Cioè? Cioè prometterci Che appena possibile Tanto state a Milano Sì Sì, è vero? Sì Venite in redazione da Visto A fare una video chat con i vostri fan Quando volete Chiamatici perché Promessa? Promessa Allora, prima della fine dell'anno la fate Andata Prima della fine dell'anno Ci organizziamo Alla grande Ci organizziamo La faremo sicuramente Perfetto Promessa Bravi Complimenti ai campioni Ciao ragazzi Grazie Ciao 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 ciao